E' stato bloccato in un'area boschiva a Ceresole, in Borgata Villa, il rapinatore che l'altro ieri ha rapinato la banca intesa San Paolo a Castellamonte. L'uomo armato di pistola era entrato nella filiale dopo aver costretto un'impiegata ad aprire la porta e accompagnarlo alla cassa, quindi aveva minacciato i cassieri e si era fatto consegnare il denaro contenuto nelle casse, circa 5.000 euro. Poi era scappato con una Fiat Punto di proprietà del padre. E' scattato il piano antirapina con posti di controllo in tutta la provincia. I carabinieri della compagnia di Brea hanno segnalato l'auto del rapinatore e un parziale di targa. I carabinieri della stazione di Chivasso hanno intercettato l'auto del rapinatore e l'hanno bloccato. Si tratta di un italiano di 32 anni, abitante a Chivasso, con precedenti penali. Il bottino è stato recuperato, era nascosto in un doppio fondo del bagagliaio, insieme con un manganello, un passamontagna e un tirapugni e una pistola scenica beretta, senza tappo rosso, utilizzata per commettere la rapina. L'uomo è sospettato di aver commesso altre rapine nel Chivasso. Grazie a tutti.